Una volta era la notte a portare consiglio, adesso è il pomeriggio il Comitato regionale del calcio campano con al comando Carmine Zigarelli si è riunito nelle scorse ore di inseguito alla curva dei contagi che sta interessando in maniera massiccia il paese ha deciso di sospendere temporaneamente la ripresa dei campionati dall'eccellenza alla terza categoria ma non la Coppa Italia, giunta alla fase finale. La massima categoria dei direttanti regionali, ovvero l'eccellenza, riprenderà i battenti il prossimo 16 gennaio dunque slitta di soli sette giorni la ripresa delle ostilità e si riprenderà dalla terza giornata di ritorno con la seconda che in un primo momento era prevista per il 9 e sarà recuperata data da destinarsi si presuppone nel giorno di mercoledì 26 gennaio anche perché le società interessate possono accordarsi tra di loro entro il 17 gennaio i club Irpini e non stanno continuando in ogni caso le loro sedute di allenamento prendendo le giuste precauzioni c'è chi ad esempio continua a sottoporre ai tesserati il tampone per evitare il rischio di incorrere in un focolaio discorso diverso per la promozione si torna in campo il prossimo 23 gennaio altra sostanziale differenza è che la giornata che si disputerà è la quindicesima ovvero la seconda di ritorno proprio come era in programma il 9 gennaio con il calendario che dunque si stoppa suggestiva la partita tra le due protagonisti indiscusse del torneo a Bellino e Bellizzi che alla ripresa si giocano una fetta di campionato anche i club di promozione secondo le iscrizioni stanno svolgendo le normali sedute di allenamento anzi c'è chi ha disputato delle gare amichevoli in queste giornate di festa d'altronde dal comunicato della FGC Campania si legge che tutte le società potranno proseguire regolarmente le loro attività nel rispetto del protocollo anti-covid